Gli sparano alla guancia mentre tenta di scappare Tunisino ferito gravemente al Lido Trearchi di Fermo, l'agguato a opera di 5 persone, il magrebino di 33 anni è ricoverato al Torrette di Ancona. La carica dei 500 contro la discarica di riceci, manifestazione in Piazza del Popolo a Pisaro, per dire no all'impianto, in settimana sono ripartite le tribellazioni nella frazione di Petriano. Un autunno mascherato da estate, caldo record in tutte le marche, tanti tornano in spiaggia, qualcuno prega per un po' di pioggia che porti il refrigerio. L'Ascoli ripreso all'85esimo a Brescia, Falzerano replica Moncini, peccato ma siamo sulla buona strada, il commento di Mister Viali, terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri. E ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro Tg Mark. Apriamo purtroppo con la pagina di Cronac, il terribile agguato che si è registrato nella serata di sabato a Lido Trearchi con un uomo colpito da un proiettile al volto e tuttora ricoverato al Torrette. Si tratta di un magrebino di 33 anni, il punto nel servizio di Donatella Lappa. Ancora sangue a Lido Trearchi dove ieri sera, poco prima delle 20 e 30, un nordafricano di circa 30 anni è stato colpito al volto con un'arma da fuoco. Il giovane si è accasciato nel viale centrale del quartiere Fermano, in via Aldomoro, proprio davanti ad alcuni negozi che avevano appena chiuso. Immediatamente alcuni residenti hanno allestato i soccorsi e sul posto è giunta all'ambulanza della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio e l'automedica della Croce Azzurra di Porto San Giorgio insieme a tre pattuglie dei carabinieri. Il ferito raggiunto al volto da un proiettile che è passato da guancia a guancia è stato stabilizzato sul posto dai sanitari per poi essere trasportato al murri di Fermo, dove ad attenderlo c'era l'eleambulanza che l'ha portato all'ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono molto gravi, ma la sparatoria sembra non essergli costata la vita. Da una prima ricostruzione, il nordafricano è giunto in via Moro da una stradina secondaria abbraccato da cinque persone, una delle quali ha cercato di ucciderlo centrandolo al volto. I carabinieri hanno subito blindato il quartiere, delimitando la zona della sparatoria e perlustrando tutto intorno alla ricerca dei feritori e degli altri soggetti che inseguivano la vittima, nel tentativo di ricostruire tutta la dinamica del tragico fatto. Al momento ogni ipotesi sulla sparatoria resta aperta, potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra bande rivali o di una ritorsione personale, ma ciò che appare chiaro è che dopo la retata dell'alba di lunedì 18 settembre da parte della questura di Fermo, a Lido Trearchi il tessuto malavitoso che ha subito un duro colpo sta reagendo. Giovedì sera, un giorno prima del ferimento, tre auto sono state date alle fiamme e potrebbero esserci dei collegamenti, quindi tutte le piste investigative restano aperte mentre si cercano ancora gli aggressori di leguatesi prima dell'arrivo delle pattuglie. E sembra un quartiere tranquillo come tanti altri Lido Trearchi, questa mattina c'è tornata la nostra Donatella Lappa, la vita sembra scorrere tranquilla tra passeggio, commissioni acquisti nei negozi davanti ai quali eri sera poco prima delle 20 e 30 si è consumato l'ennesimo fatto di sangue. Proprio dove è avvenuta la sparatoria si trova il pass, il doposcuola voluto dal comune di Fermo attraverso l'ambito territoriale e dove Lucia Interlenghi, educatrice e docente d'italiano per stranieri, opera tutti i giorni, domenica inclusa. Sentiamo Donatella Lappa. La situazione al Lido Trearchi, che percezione c'è di sicurezza? La nostra è molto particolare, noi abbiamo un punto d'osservazione che è privilegiato perché vediamo il bene e il male, noi qua gestiamo la scuola d'italiano, il doposcuola dei bambini, dei ragazzi, non va e vieni, ma questo è anche crocevia di spaccio, di incontri, di scambi. Quando non ci siamo noi ci stanno gli altri, quindi è bene che questo posto sia sempre occupato da qualcuno, che le serrande si hanno tirate su. Ieri a che ora avete chiuso? Noi siamo qui fino alle 6, la situazione era tranquilla, ma i bambini stessi non percepiscono, i residenti non percepiscono l'insicurezza, il pericolo, il rischio. Eppure ieri qui hanno sparato, che non erano le 20 e 30. No, no, infatti questo succede all'ordine del giorno, perché quando lo sparano, qui di giorno noi abbiamo assistito anche a inseguimenti, a proprio guardie ladri, proprio anche noi abbiamo rischiato diverse volte di essere travolti dagli inseguimenti e si familiarizza con questo clima e io stessa qualche volta ho chiesto alle persone che stanno qua davanti che fanno i loro traffici, per favore spostatevi, perché questa è una scuola, questo è un luogo che va protetto, ma questo è un luogo pubblico, sì è pubblico, però vi chiedo per favore di andare a un'altra parte e dico che lo fanno, l'hanno fatto, bisogna comunque interagire anche con, tanto non lo elimini, è una realtà talmente radicata, perché vanno via, attualmente ci stanno i consini, ma vanno via loro, arrivano altri, cioè io in questi anni ho visto tanto capuno avvicendamento. È stato un sabato drammatico nella Riviera delle Palme con ben due morti, una donna finita sotto un treno lungo i binari tra Porto d'Ascoli e San Benedetto del Tronto e un uomo trovato privo di vita a bordo della sua imbarcazione a vela nei pressi del porto. Il punto nel servizio di Michele Natalini. Sabato drammatico nella Riviera delle Palme, attorno a mezzogiorno è scattato l'allarme per una donna di circa 45 anni, residente a Foligno, che sarebbe finita sotto un treno lungo i binari tra San Benedetto del Tronto e Porto d'Ascoli. A portare avanti le indagini sul decesso sono gli agenti della polizia ferroviaria che hanno cercato di ricostruire la dinamica della tragedia. Dalle prime risultanze la vittima potrebbe aver scelto di togliersi la vita. Alla stazione di Porto d'Ascoli sono arrivati anche i carabinieri per aiutare gli agenti nelle indagini. Sempre in mattinata il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto all'interno di una barca a vela alla deriva a largo della costa San Benedettese. Le prime chiamate alla guardia costiera hanno segnalato un'imbarcazione apparentemente senza alcuna persona a bordo. Quando i militari della Capitaneria di Porto hanno controllato il natante, hanno compiuto la tragica scoperta. A bordo c'era Bruno Bianchi, molto conosciuto nell'ambiente originario di Ascoli Piceno, ma appassionato di vela. Aveva deciso di godersi una giornata in barca, purtroppo però sarebbe rimasto vittima di un malore improvviso. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118. Nonostante gli sforzi del personale medico, non è stato possibile salvare la vita dell'uomo e il suo decesso è stato constatato sul posto. Restiamo a San Benedetto. Ladri in azione nel quartiere Salaria nella tarda serata di ieri. Hanno atteso che non ci fosse nessuno per mettere in atto il loro piano. Tutto è accaduto in brevissimo tempo. Hanno frantumato i vetri delle finestre e sono piombati in casa. Si tratta di una villetta di famiglia dove sono ubicati più appartamenti. I malviventi hanno preso d'assalto prima il piano terra, dopo la spaccata sono entrati in casa e hanno asportato oggetti di valore e poi sono passati all'appartamento del piano superiore rubando vari monili d'oro. Una volta terminato il ride si sono dati alla fuga. Non appena rientrati i proprietari hanno allertato i carabinieri di San Benedetto, i militari dell'arma si sono recati sul posto per i rilievi del caso e hanno subito inviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Il bottino è ancora da quantificare. E ora la pagina politica perché due assessori entrano in due differenti partiti e vengono defenestrati dai rispettivi sindaci. Sono Manola Gironacci a Civitanova che è entrata a far parte della Lega e Lauro Salvatelli a Porto San Giorgio ormai iscritto a Fratelli d'Italia. Sentiamo. Manola Gironacci non è più assessore al comune di Civitanova Marche. Lo si apprende da una nota firmata dal sindaco Fabrizio Ciarapica dopo la visita di Salvini a Macerata. Fulminaccia il sereno tra le fila della giunta. Ciarapica ha tolto le deleghe all'assessora dopo che quest'ultima ha fatto il suo ingresso all'interno della Lega. Un passaggio che ha creato scompiglio all'interno della stessa maggioranza. Gruppi come Vince Civitanova o partiti come Forza Italia non avrebbero lasciato correre. La Gironacci alle scorse elezioni era stata nominata assessore in rappresentanza della lista Civitanova unica creata per le amministrative, una compagine che aveva ottenuto addirittura l'11,56% delle preferenze, seconda solo a Fratelli d'Italia più votata nel centro-destra. La Lega invece con il 5,8% alle amministrative si ritrovava ora ad avere due assessori all'interno dell'esecutivo Ciarapica. Ecco qua lo scenario che avrebbe portato a uno sbilanciamento rispetto alla ripartizione avvenuta dopo le elezioni. Da qui l'immediata reazione del sindaco Ciarapica che con un breve comunicato dopo aver augurato il meglio all'ormai ex assessora scrive Prendo atto del passaggio in Lega dell'assessora Manola Gironacci le auguro il meglio per il suo futuro in un partito che stimo e rispetto ma questa decisione ha inevitabilmente compromesso quel necessario rapporto di fiducia per il quale ad inizio mandato l'ho scelta come assessore nella lista civica Civitanova unica pur non essendo stata eletta. Pertanto dopo un'attenta riflessione ha deciso di revocare tutte le deleghe a lei conferite. Per il momento le deleghe resteranno in mano allo stesso sindaco. Altro giro, altra amministrazione e altra revoca per mancanza di fiducia. Lauro Salvatelli non è più vice sindaco a Porto San Giorgio, le sue deleghe finiranno nelle mani di Marco Tombolini. La decisione del sindaco Valerio Vesprini è arrivata nella tarda serata di venerdì dopo una serie di valutazioni che avevano fatto venire meno il rapporto di fiducia tra il primo cittadino e quello che doveva essere il suo numero due. Il sindaco Vesprini ha dichiarato che la sua scelta è stata influenzata dalla scoperta il 24 settembre tramite la stampa dell'ingresso ufficiale di Salvatelli nel partito Fratelli d'Italia. Questa scelta politica è stata adottata, detta del primo cittadino, senza condivisione o consultazione preventiva con lo stesso Vesprini o con la giunta comunale. Dunque addio alla fiducia. Vesprini ha annunciato la volontà di assegnare le deleghe precedentemente detenute da Salvatelli al professor Marco Tombolini, consigliere comunale della lista insieme. A soli 26 anni Tombolini ha accolto l'incarico con entusiasmo e gratitudine. Circa 500 persone hanno manifestato questa mattina contro la discarica di riceci. Per noi c'era Thomas Delbianco, siamo nel Pesarese. No alla discarica! Dobbiamo difendere la nostra terra! Trivelazioni e carotaggi in settimana nei terreni di riceci hanno nuovamente agitato gli animi che in realtà non si sono mai soppiti dei comitati contrari alla discarica nella frazione di Petriano. A Pesaro, in Piazza del Popolo, circa 500 persone si sono ritrovate per una manifestazione intitolata Facciamoci sentire contro una sbagliata gestione dei rifiuti, per dire no alla discarica di riceci e al digestore di Vallefoglia. La salute è la prima cosa che dobbiamo tutelare, non solo le discariche, biodigestore. Riceci non si tocca, no? Certamente, assolutamente. E' la Costituzione, tramite l'articolo 9, che dice che il territorio va preservato e tutelato e quindi la concertazione che ci deve essere con la cittadinanza nei confronti dell'individuazione di questi siti ci deve essere tassativamente. Non può essere scavalcata questa cosa e ci troviamo di fronte a un progetto già fatto. Sì, è chiaro, discaricano grazie anche per il bene del territorio, soprattutto della nostra salute e per una coerenza anche politica, io direi, biologico e discarica, penso che non siano affatto un connubio perfetto. Grazie. Il progetto non è congelato. Questa settimana hanno ripreso i carotaggi e le trivellazioni, a testimonianza che Aurora e Marche Multiservizi, nonostante quello che viene detto a 360 gradi da tutti i membri politici che ci rappresentano, ha intenzione Aurora di continuare a portare avanti il progetto. Noi continueremo in maniera sempre più forte e determinata la nostra protesta. Non bisogna mai abbassare la guardia, siamo di nuovo in piazza per affermare ancora una volta che questa discarica è la cosa più sbagliata che ci possa accadere. Non la vogliamo e tante persone come oggi dicono che non vogliamo questa discarica. Allarme caro bollette, costi esorbitanti in questo autunno, ma la regione è pronta con sostegni concreti. Sentiamo il nostro Ciro Montanari che ha intervistato l'assessore Andrea Maria Antonini. Non si fermano gli aumenti di luce gas che, già a partire da quest'autunno, potrebbero segnare rincari record senza aiuti o interventi da parte del governo. In particolare, per quanto riguarda il gas, cittadine e imprese questo turno potrebbero vedere la spesa aumentare fino al 70% in più rispetto all'ultimo trimestre. Le stime non tengono conto di eventuali interventi governativi e statali, ormai richiesti a gran voce dall'Associazione di Categorie dei Consumatori, proprio per evitare il collasso dell'economia e del potere di acquisto di molte famiglie già fortemente in difficoltà. A volte inspiegabili, perché io personalmente molte volte sto da un figlio, magari per un mese, quindi chi me lo consuma gas o la luce? L'aumento delle bollette è un aumento. Se lei considera un attimo come ci muoviamo, siamo aumentati in tutto. Adesso le bollette saranno aumentate del 30 o del 40, ma le altre cose sono aumentate del 20 o del 25. Per noi è diventato importante. Siamo stretti un bel po', strettissimi. Io ancora non ho ricevuto la bolletta, aspetto che mi arriva e poi dopo faremo le verifiche. Comunque ho visto attraverso i comunicati, la televisione, che sono aumentate, sia la bolletta della luce, sia la bolletta dell'elettricità. Dice, non so che dire. Sono cose che preoccupano. Come si può venire incontrare la gente? Allora, il governo intanto si sta muovendo e sappiamo bene che farà un intervento molto importante proprio a sostegno delle famiglie. Noi nel frattempo abbiamo ancora per qualche giorno aperto un bando dove abbiamo messo a disposizione 2 milioni e mezzo di euro come regione a favore delle famiglie con redditi ISEE bassi. Possono acquistare delle impianti, mini impianti, che vengono menzionati da parte della regione fino al 100% addirittura, anche a seconda appunto della fascia di reddito ISEE, per cercare di produrre energia rinnovabile a casa, nelle proprie case. Quindi parliamo di stufe a pellet, parliamo di mini fotovoltaico a spina. Fra un po' metteremo in campo, questo per le imprese invece, il bando energia per l'efficientamento energetico, acquisto anche di impianti da installare tipo fotovoltaico nelle aziende, per importi molto alti, parliamo di circa 25 milioni di euro e anche qui cerchiamo ovviamente di venire incontro alle esigenze delle imprese e delle famiglie, perché attraverso l'energia rinnovabile, quindi un'energia che ha un impatto ambientale praticamente pari allo zero e quindi anche un risparmio economico sulle bollette. Quindi non sono esclusi ulteriori interventi nel corso di questo inverno? No, no, non sono assolutamente esclusi, speriamo che non ce ne siano bisogno, però non sono esclusi. Per la rinascita post-sisma servono investimenti, alberghi diffusi e smart working, questa la ricetta presentata dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli nel corso di un incontro promosso insieme a Danci. Secondo il commissario straordinario Guido Castelli, per il rilancio dell'Appennino Centrale occorre coinvolgere investitori anche internazionali, fare dei borghi un albergo diffuso e lavorare in smart working. Insomma, creare un'economia del cratere attraverso strutture all'avanguardia che siano in grado di intercettare flussi turistici con capacità di spesa, diventare attrattivi per gli investitori e guardare al futuro prossimo con lungimiranza. Questo è quanto proposto durante il convegno che si è svolto a Camerino all'auditorium Benedetto XIII, organizzato dalla struttura del commissario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016 e dall'Anci Marche, dal titolo Meraviglie dell'Appennino Centrale, rigenerazione urbana, economica e sociale dei luoghi e dei borghi. Bisogna ricostruire bene, presso, tempestivamente in termini di qualità, ma bisogna anche riparare socialmente quel territorio che già prima del 24 agosto del 2016 risultava particolarmente affaticato, vi riferisco all'entroterra, all'Appennino Centrale, da un modello di sviluppo che non ha sempre dato la giusta attenzione e la giusta rilevanza alle zone montane e piede montane. A Camerino abbiamo voluto fare il punto con i sindaci per consentire di proporre al mondo agli investitori internazionali e nazionali la possibilità di intraprendere attività turistiche proprio valorizzando i borghi dell'Appennino Centrale. Lo scopo è quello di creare le condizioni per cui il turismo, che già grazie alla regione Marche, va molto bene e che sta dando numeri importanti, possa essere organizzato in maniera tale che dei settori di nicchia, dei borghi particolarmente avanzati, qualitativamente ben sistematizzati, possano diventare dei resort appetibili anche da persone che abbiano una certa capacità di spesa. Bisogna costruire l'economia del cratere in maniera tale che tutti i temi siano presidiati al meglio. Questo contributo va nel senso di gestire nella maniera più attenta la possibilità che gli investitori credano, puntino, investiano appunto nel cratere. Siamo sulla buona strada e con la collaborazione dei sindaci sarà possibile andare avanti. Sarà pubblicato entro qualche giorno il bando per l'ospedale di Muraglia a Pesaro, l'appalto dei lavori nel 2024 e sempre il prossimo anno si spera di partire con il cantiere. Il bando di progettazione per il nuovo ospedale di Pesaro nella zona di Muraglia verrà pubblicato nella gazzetta ufficiale dalla regione Marche entro pochi giorni. Il 2024 sarà l'anno dell'appalto e dell'avvio dei cantieri. A che punto siamo arrivati sul progetto dell'ospedale di Muraglia? Mantenuta la promessa del presidente Acquaroli, sulla quale insieme all'assessore Saltamartini abbiamo lavorato, della realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro. Acquaroli era stato molto chiaro poco più di un anno fa. Avremmo sfruttato i mesi che avevamo davanti per realizzare finalmente una struttura che la città di Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino e la sanità regionale aspettavano da decenni. Se ne parla del 1969, in due anni e mezzo il presidente Acquaroli mantiene questa promessa insieme alla sua giunta. Siamo veramente in uno stato avanzato perché si sta chiudendo l'iter che porta alla presentazione della gara per la progettazione. Un importo di oltre 200 milioni di euro, 10 milioni di euro circa di progettazione sulla quale è arrivata la bollinatura dell'Anacca. Una procedura che noi abbiamo scelto perché questa è la più grande gara d'appalto a memoria realizzata nella storia della regione Marche e si inizia proprio da Pesaro per poi proseguire con Macerata San Benedetto del Tronto e tutte le altre strutture che stiamo riqualificando per rispondere alla sanità del terzo millennio nella nostra regione. Tutto rimarrà a Pesaro, non ci sarà nessun tipo di trasferimento. Noi abbiamo fatto un incontro con i medici e con i primari e abbiamo deciso sostanzialmente un'organizzazione soft che possa evitare di privare Pesaro dei servizi fondamentali e necessari, quindi non è vero che verrà spostato il reparto materno-infantile, non è vero che ci saranno altri traslochi. Oggi Pesaro ha 285 posti letto, li portiamo a 328, quindi ci sarà un potenziamento della sanità pesarese e in caso di emergenza arriveremo a 350 posti letto, quindi mai c'era stato uno sforzo della regione per il potenziamento dei posti letto nella città di Pesaro, che erano i più bassi della nostra regione e lo sforzo finanziario, lo sforzo operativo mi pare sia sotto gli occhi di tutti. Nel centro di Ancona la Galleria Dorica versa nel degrado l'appello dei commercianti raccolto dalla nostra Teodora Stefanelli. Galleria Dorica, un nervo scoperto per la città di Ancona, assediata dai piccioni che cospargono guano ovunque, marchiata dagli scarabocchi e dai graffiti di ogni tipo, tra sporcizia e degrado, quella che fu una perla Liberty a ridosso di Corso Garibaldi e ormai lo spettro di se stessa, tra attività chiuse e spazi in affitto. I pochi esercenti rimasti chiedono un aiuto concreto, soprattutto alla nuova amministrazione Silvetti che ha proposto un tandem pubblico-privato, visto che questi spazi sono condominali, proprio come gli archi e i portici di Piazza Cavour. Cosa si può fare per migliorare la Galleria Dorica? Qualsiasi cosa, l'importante è che si faccia, piccioni, sporcizia, incuria, spero di sì. Dopo l'ultimo episodio, che ha visto un asse di legno cadere e staccarsi dal tetto proprio davanti alla Galleria dove stavano svolgendo dei lavori, piombando quindi sulla testa di una turista, si torna a parlare della sicurezza in quest'area. Il sindaco dice sempre così, però poi alla fine va a finire sempre che rimangono sempre le cose in pratica non fatte. Infatti se vedi la Galleria, bene o male, non è che ci sarebbe chissà da fare chissà che cosa, basterebbe già anche una buona verniciata, una rinfrescata giusto per accogliere le persone, ma più che altro anche perché vedi tutte le vetrine che vedi, quelle chiuse, automaticamente è una cosa quasi impossibile vedere dentro una Galleria delle vetrine chiuse invece di essere aperta a negozi. Essendo un punto di, tra parentesi, di passaggio, sarebbe bello attirare anche più gente, però rimetterla in sesto non servirebbe grandissime cose da fare, però bisogna farle. Torniamo nel Maceratese, a Re Canati i Vigili del Fuoco sono intervenuti in mattinata poco dopo le 10.30 per un incendio di sterpaglie. Le fiamme hanno interessato un campo incolto e alcune piante per una superficie di circa 4 ettari. Sul posto sono intervenuti 5 automezzi e 10 unità dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e bonificato l'area coinvolta. E ora siamo a San Benedetto del Tronto per parlare di solidarietà. Si è svolta infatti la prima cena di beneficenza post-Covid promossa dall'Associazione Sulle Ali dell'Amore Valentina Pistonesi-Onlus che opera a sostegno delle famiglie più bisognose. Per noi c'era Jessica Balestra. Amicizia, inclusione, solidarietà. Paroli d'ordine alla cena d'autunno, il grande evento di Sulle Ali dell'Amore Ollus che ha inaugurato la seconda stagione dell'Associazione San Benedettese dopo lo stop imposto dalla pandemia. Non posso nascondervi l'emozione che provo in questo momento. È il primo evento che l'Associazione riorganizza dopo il Covid e dopo purtroppo la mia avventura con la malattia. In effetti quindi questa è una ripartenza. commovente il saluto portato dalla fondatrice della Onlus Anna Pistonesi ad amici, volontari e sostenitori dell'Associazione che da 15 anni si impegna a contrastare povertà e disparità. La strada è ancora lunga così come sono tanti i sogni da realizzare. Ho sempre sognato di fare una casa di accoglienza per le persone che purtroppo non possono pagare più l'affitto e un altro sogno che ho nel cassetto è quello di fare uno chalet balneabile. Mi piacerebbe fare uno chalet dove i disabili possano fare tutto. Presenti alla cena di beneficenza all'hotel Relax anche il sindaco Antonio Spazzafumo e gli assessori Domenico Pellei e Andrea Sanguigni. Tutte le associazioni benefiche che operano sulla nostra città comunque hanno bisogno di essere come dire aiutate anche con la presenza non solo con la parte economica. Io ricevo parecchie segnalazioni anche io personalmente da parte non solo di famiglie ma anche di persone che hanno grosse difficoltà perché hanno perso il lavoro e comunque vivono in uno stato veramente di indigenza. Sono aumentate le famiglie che sono in difficoltà. Qualcuno lo fa, espone il proprio problema in maniera aperta, qualcuno per dignità lo nasconde. L'associazione sulle ali dell'amore è un'associazione che è un punto di riferimento per i sanbenettesi e per le famiglie più in difficoltà del nostro territorio. A breve partiremo con il progetto sulla lotta contro lo spreco alimentare di cui loro saranno partner e saranno sicuramente la colonna portante per la zona centro-nord della città. Tra bracci, canzoni e una pesca di beneficenza il pensiero di tutti non può che andare a Valentina. A me piace pensare che sia lei quando io vedo una farfalla e siccome la vedo spesso e siccome la vedo anche nei momenti forse un pochino più difficili della mia vita e lei c'è sempre. Da più di una settimana siamo entrati nell'autunno, ma in verità dell'autunno non c'è traccia, le temperature sono ancora estive. L'autunno è ormai entrato da diversi giorni, ma incredibilmente il caldo è ancora delle giornate di piena estate. Le piogge dello scorso weekend non hanno determinato il previsto abbassamento delle temperature e molta gente è insofferente per come vengono vissute queste giornate ancora fose. Che effetto fa questo caldo a fine settembre? Disastroso, io che amo l'inverno per me è un disastro. Bellissimo, quanto più a lungo va il caldo meglio. Quindi insomma è una situazione che spera si possa prolungare ancora? Per me sì, che sono dal Brasile allora preferisco il caldo. Mi fa brutto, brutto effetto. Lei preferisce il freddo? No, non preferisco il freddo, ma non preferisco nemmeno questo caldo fuori stagione. È un bel effetto, mi fa comunque, si speri che venga anche un po' di fresco. Però insomma per ora diciamo che... Lo accettiamo ed è bellissimo fare delle belle passeggiate, è ottimo. Io faccio poi un po' di passeggiate quindi va benissimo. Io vado in chiesa e dico una preghiera per la pioggia sanificatrice, santificatrice, perché abbiamo bisogno di una pioggia che sia quella giusta. Allora siccome si possono in questo momento accumulare delle perturbazioni molto pesanti, allora io prego perché sì, sia una pioggia sanificatrice, santificatrice. Caldo che durerà ancora qualche altra giornata? Se è così è sopportabile, se non è affoso come quest'estate che abbiamo sofferto. Poi la mattina si sta ancora meglio perché nel pomeriggio magari l'umidità scende un po' di più, verso la sera anche, e si sta meglio adesso. Si sta bene, è gradevole. Certo, se uno deve poi pensare alle variazioni climatiche, è in atto. Con le maniche corte è quasi ad ottobre. Beh è un bel effetto, noi siamo tifosi dell'estate, l'inverno non è che ci piace molto, quindi se questo caldo che in questo momento qui, come si dice, è apprezzabile, continua ancora per molto, a noi ci fa molto piacere. Apprezzo questa temperatura, si sta bene, i maniche corte, abbastanza, si sta bene, si sta bene. Quando ero bambina e andavo a scuola all'elementare, capitava che in ottobre, che noi anziani andavamo a scuola il primo di ottobre, mamma mi mettesse il grembiulino senza il vestitino sotto perché era caldo. Quindi non è cambiato niente? No, non ho detto questa, attenzione, assolutamente. No, non è che non è cambiato niente, però ci sono state stagioni anche un po' particolari, anche in passato. Si chiude qui la prima parte del nostro notiziario, qualche secondo e ci ritroveremo insieme con la pagina sportiva.